Quali sono i segnali di interesse che le donne mandano quando provano attrazione per un uomo? Magari un sorriso, sì, però non troppo. Non troppo. Non troppo. Un sorrisino con metà dente davanti. Molti uomini non fanno mai la prima mossa perché non sanno se la donna prova interesse. Tu ti accorgi che un uomo è interessato a te, o no? Sì, ma lui non si deve accorgere che io sono interessato a lui. E' quello il problema. Le ragazze, soprattutto oggi, che hanno miliardi di input, stanno ferme. State ferme, ragazzi. Sì, è vero, lo ammetto. Non sono d'accordo. Ma io sto abbastanza ferma all'inizio. Eccola. E' un modo forse di mettere alla prova la persona per vedere se ha realmente l'interesse. Però la mettere alla prova... E' sbagliato, lo so che è tossico. Tanti uomini cosa fanno? Ti vedono, non ti parlano, ti scrivono. Ho bisogno di bere. E' da coglioni. Bravo, un applauso. E viceversa, viceversa. Maurizio Romano, il gentleman seduttore. Colui che aiuta gli uomini a trovare la donna dei loro sogni. Non dovrai fare nulla. Sarà lei a venire da te. E quindi, ragazze, il discorso qual è? Ah, così. Come vini? Buona la prima. Senza brindisi? Allora, argomento. Quali sono i segnali di interesse che le donne mandano quando hanno attrazione, provano attrazione per un uomo? Perché molti uomini non fanno mai la prima mossa perché non sanno se effettivamente la donna prova interesse. E quindi si mettono in friendzone oppure aspettano. Dovrebbero farla accettare al rischio. Esatto. Io non ho mai capito i tempi. Aspetta, ok. Dovrebbero farla accettare al rischio. Però il problema è questo. Che se arrivano dall'Ali, che è una persona notoriamente diplomatica, vengono blastati senza bietà. Non è assolutamente vero. No, no. Dipende. Dipende. Anche perché noi donne vogliamo vedere l'interesse degli uomini. E non ve ne accorgete. Io devo vedere la faccetta. Ecco, ecco. Devo vedere la scelta. La fatica. Io come faccio? Cioè io ti amo. Io devo vedere la fatica. Sembra la cattiva. Ma io devo vedere l'interesse. Andare al supermercato e prendere un prodotto dallo scaffale. Io devo vedere l'interesse. È vero. Ci va più impegno. Ci va più fatica. Cosa che non mettono? Ecco, cosa intendi per impegno? No, davvero. Impegno significa che tu scegli la persona che è e su di lei investi. Quindi ti metti in discussione. Ti amplichi su di lei e basta. Ti metti in discussione e ti prendi anche il rischio di prenderti un palo. Perché no? Se una persona ti piace. Come non ti convince? Io ad esempio non sono una che dà segnali di interesse. Perché comunque sarebbe troppo semplice. Dico, vabbè, do segnali di interesse a te. Tu allora ti butti. No, io voglio vedere una persona che è interessata a me. E tu non ti accorgi se è un uomo interessato? Io mi accorgo che è un uomo interessato. E quindi? Ma io non do segnali. È lui che deve darli a me. Nonostante tu ti accorga che lui è interessato, lui comunque deve darti segnali. Certo. Mi deve cacciare? Perché fa parte del ruolo dell'uomo, secondo me. Il fatto di dire, ok, col mirino ho preso in considerazione lei per tot motivi. Da ora in poi mi sbatto, tra virgolette, per avvicinarla a me. Deve far vedere che ha scelto me. Perché il problema qual è? È che questa roba ci starebbe anche. Però? È che voi chiedete all'uomo di sottomettersi. In questo modo, in realtà, in questa fase qui è lui che, tra virgolette, comanda, perché io rimango totalmente ferma. Ecco, però, e vuoi che lui ti dia segnale interesse senza dare nulla in cambio. Non è un nulla in cambio. La seduzione, come la vedo io? Non è una conquista? No, il problema ci deve essere. È una conquista, però deve essere un ballo. Deve essere una danno. No, è vero. Ma il ballo inizia dopo. Uno scambio. Cioè, deve essere. Secondo me il ballo inizia dopo. Dopo inizia il ballo. La donna deve dare pochi segnali. Ma quelli giusti. Ma quelli giusti. Perché se un uomo si sbatte e ti fa capire che è interessato e tu fredda come un giocatore un po' per russo. No, vabbè, adesso no, non fredda come un giocatore. Magari un sorriso, sì, però non troppo. Non troppo. Non troppo. Un sorrisino con metà dente davanti fuori, mi raccomando. No, no, senza neanche idee. Eh no, e se no vuol dire che tu appena vedi che ce l'interesse, ah ok, usciamo e via. No, in questo non sono d'accordo. No? No, io ci metto un po', io ci metto un po' a lasciarmi andare. La donna deve dare dei piccoli input, no? Però poi quando vede che dall'altra parte c'è interesse, deve anche mettersi lei nella condizione di dare all'uomo la possibilità di… Ma subito. Però se ti interessa… Subito. Ti spiego perché. Non esistono grandi tempistiche secondo me. Esatto. Esatto, cioè il discorso è… Io ci metto un po'. Ma no, ma ci sta, però parliamone, no? Perché comunque io vi dico la mia. Nel momento in cui io corteggio una donna, ci sta che io che sono uomo ceda terreno. Io faccio sempre questo esempio. Con una donna all'inizio devi sempre cedere un po' di terreno. Perché se sei l'uomo devi prendere iniziativa, cedi un po' di terreno, però dall'altra parte lei ti deve dare qualche segnale. Che non vuol dire ti amo o fare vedere le foto delle tette. Cioè ragazzi, non prendiamo. No, va bene, la donna sicuramente risponde ai segnali dando il numero di telefono, accettando l'invito a cena. No, quella roba, vedi, secondo me questa roba non funziona. Ah no, tu parli. Perché il solo fatto di dare un numero di telefono… Beh, per me è già tanto magari. Secondo me sai cos'è l'importante? È aprire una conversazione, continuare una conversazione. Quella è la base. Però non è così scontato perché ci sono ragazze… Che non parlano. Che no, che questi ragazzi… Io vedo delle chat e questi ragazzi fanno una fatica devastante. Ma lì perché non c'è interesse? E poi scrivo io al posto loro perché… Fanno una fatica, aspetta, perché magari fanno una fatica perché sbagliano gli argomenti con quella determinata ragazza. No, perché a volte scrivo io e vabbè, lì purtroppo è anche… Magari non… Nonostante la comunicazione eccellente, magari è proprio un ragazzo che non matcha. Però il problema qual è? È che a volte le ragazze, soprattutto oggi, che hanno miliardi di input, stanno ferme. State ferme ragazze. Sì, è vero, lo ammetto. Che palle. Non sono d'accordo. Vai. Io sto abbastanza ferma all'inizio. Eccola. Io ad esempio no. Io ad esempio no. Nel senso che dico… Sei di me? Sì. Sei di me? Non me la fate incazzare Alice perché se… Dimmi perché… Alice diventa una mina, magari. Sì, se vedo che dall'altra parte c'è la possibilità di… Perché dovrei star ferme e dire deve fare tutto lui? Cioè non vado a creare un muro. Ma tu devi essere donna. Cioè nel senso, mi spiego meglio. La donna deve fare la donna, quindi deve… Ma certo. Fare un po', cioè lasciare poco, poco. Però neanche mettere il muro. Giusto. Perché tirarsi un muro porta a non avere niente per entrambi. Io tiro sui muri. Ma perché questa cosa? Tiro sui muri perché io… Per paura di essere ferita? O per in generale… Credo che sia un modo… Non tutti fanno così, però io voglio la persona che è pronta a buttare giù quel muro. Qualcuno ci è riuscito, altri si fermano. La maggior parte si ferma prima. Perché? È un modo forse di mettere alla prova la persona per vedere se ha realmente l'interesse. Però la metti alla prova… Sbagliato, lo so che è tossico. No, non è tossico, no, è tossico addirittura, no. Però è proprio questo, cioè questa roba di che… Ma non sei l'unica. No, no. Il 90% delle donne fa così oggi. Cioè questa è la cosa triste, no? Perché… No, no, io l'ho sempre fatto, non è oggi. No, oggi nel senso… Comunque è un uso comune oggi, no? Cioè le donne… Secondo me ti dico sai perché? Perché viviamo in un mondo dove è così facile incontrare, vedere persone che quella persona lì deve farmi vedere… Voi sentirti importante. Sarà che per esperienza o amici e tutto vedo che la maggior parte degli uomini oggi ci prova un po' a destra e a sinistra. Quindi se io… E quindi penso, ok, ma se ci prova con questa, quella, quell'altra, con me deve fare un po' più fatica. Poi magari non la fa e se ne va e quindi… Ma secondo te un uomo che ci prova con… Ecco questa è una domanda bella. Non è di valore sicuramente, non è… Vedi che ormai mi conosci. Però vedi che mettendo il muro io… Però vedi io mettendo il muro quelle persone lì se ne vanno via in automatico. Ma tu non te ne… Cioè tu quando un uomo ti si avvicina non vedi magari un atteggiamento da provolone, classica frase, no? Cioè che ci prova e lì ok. Lo capisci subito. Lo capisci subito. Sì, 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 lo capisci subito. Io credo che quando vedi un bravo ragazzo, il bravo ragazzo, con le palle, non lo sfigato… C'è anche chi si maschera molto bene. C'è anche chi lo ha apparentemente. C'è anche chi. Quelli più bravi, quelli più bravi, sì, quelli più bravi. Ci sono quelli che… Perché mi indichi a me? Io sono bravissimo. No, no, erano i ragioni che sono. Io sono bravissimo. No, no, ma lo sappiamo. Eh, guarda. Sì, ma infatti parliamo di tutti tranne i presenti. Esatto, esatto, io sono adorabile. Il discorso qual è? È che con questo atteggiamento, Luci, in generale, ma parlo a te come a tutte le ragazze che ci stanno guardando, questo atteggiamento allontana uomini di valore. Secondo me il suo è un'arma a doppio taglio. Esatto. Perché tu attiri un uomo che si sottomette e che si annulla per te. Che all'inizio ti può piacere, ti gonfia l'ego, ti piace, ti dimostra questo, questo e quest'altro. Tu ti senti ok perché dici ha superato la barriera, però poi perdi interesse. Non è vero, io ti parlo dei miei ex che hanno fatto così. No, ok, ora non si parla di… Cioè, scusa, mi esprimo meglio. Non si parla di te, però in generale una donna che ha questo tipo di atteggiamento finisce col perdere interesse perché l'uomo si prostra talmente tanto che perde il valore della conquista. Perché voi donne… Non lo so, aspetta, quelli che ho incontrato io hanno superato questa prova qui, però poi non era che erano sottomessi. Anzi, forse poi io quando mi apro e mi lascio andare… Vai in crash. Eh, esatto. Sottomessa. Perché? Perché ho comunque… Ti faccio un'altra prospettiva, ti dico un'altra prospettiva. Se l'uomo, se l'uomo ti dimostra interesse, ok, e tu giochi questa… cioè, stai a questa danza in cui lui ti manda un segnale, tu gli rispondi e gli dai un po' di spazio, lui si prende quello spazio e ti restituisce ancora di più e comincia a diventare proprio un ballo, un bellissimo gioco. Ed è così che deve essere secondo me. E non annoierà mai. E non ti annoia perché se tu chiudi… Io ad esempio, se io ci provo con una donna, a parte che non è mai successo, però ci sta da parte tutto, cioè se io ci provo con una donna e vedo che sono… ci trovo un muro, io mi annullo subito, perché io ho troppo rispetto di me stesso e non mi butto, non faccio lo zerbino, non mi butto ai suoi piedi. Sì, però c'è anche da dire che… Mi segui, no? Sì, sì, sì. Non lo so, c'è anche da dire che oggi molti si aspettano, come dici tu, questo ballo dove poi magari siamo noi donne a dover chiedere di uscire. No, allora vabbè, io la faccio questa cosa. È occhio, occhio. Io la faccio ma la faccio bene, io la faccio ma la faccio bene. però è questo, il discorso è, l'uomo deve fare l'uomo, su questo siamo d'accordo. E tante volte se lo dimenticano. Se lo dimenticano perché sono abituati a questo tipo di situazione in cui si devono prostrare e perdi la virilità, perdi la forza di uomo, di maschio. Tanti ce l'hanno anche per indole. Cosa? Il fatto di non essere… Di non rispettare perfettamente il loro ruolo da uomo. Certo, certo, perché voi donne, sai cos'è che non… Un ragazzo della tua età, con te, fa fatica vera. Perché hai un ego e una personalità e una forza di carattere che te li mangi vivi. Ma non perché sei cattiva, tu sei… io ti conosco e ragazzi, a differenza di quanto possa sembrare, è una ragazza fantastica. Non mi presentano come… No, in realtà è un so, torribile, mamma mia. Sto dicendo questa cosa. Non sono così. Io la adoro perché è dolcissima, bravissima, super educata, super rispettata. È una barriera anche quella, è un muro. È vero o no? Posso dirlo. Tu che la conosci benissimo. È totalmente diversa. È totalmente diversa da come appare. È un muro anche quello, è un muro anche quello. È vero, è vero. È la stessa cosa sotto. Lei magari dice, ok, però lei in automatico, io adesso te lo dico a livello consapevole. Lei il muro lo mette uguale, ma in modo inconsapevole. Ha ragione. Quindi io una volta io fossi uomo… Però dipende con chi, perché io non metto un gran che… Io non metto un gran che di muri, in modo inconsapevole. Cioè lei che sa non metto muri io, anzi i muri li trovo. Però per me l'uomo con me non ha questo muro invalicabile da superare. Ma neanche con me. Si tratta più… Ho letto una frase l'altro giorno su un trezzo, vabbè non me la ricordo. Comunque diceva… Tipo. Diceva, infatti è stata criticata tantissimo questa ragazza, invece io l'ho sentita. E diceva, l'uomo con me deve insistere. Ovviamente è nata una polemica incredibile. Perché secondo me non si è spiegata bene. Intendo dire che quando incontro una persona, che comunque anche mi piace, non deve fermarsi al… a questo muro che però, ripeto, non è un muro invalicabile. Perché io faccio scegliere alle persone che ho già scelto. Cioè faccio… Ecco, ma scusa, ma se uno ci prova con te, no? E' gentile, carino, divertente. Io gentile sono sempre gentile, attenzione. Sì, però se lui vedi che ci prova ed è palese. E' una gentilezza sottile, in realtà sei già sotto esame. Esatto, esatto. Lei già posto sotto esame. Ogni parola che dice quel povero… sappiatelo, un'uscita con Lucia, ogni parola che dite è un esame. Sotto esame. Ha già fatto lo scan. Però quello che ti voglio dire, nel momento in cui uno ci prova con te e tu ti accorgi che questo ci prova con te… Ah, io fredda. Eh. Sì. Io no, ad esempio. Ma un uomo con un po' di autostima se ne va. Eh, allora non lo so, devo cambiare… No, non devi cambiare… No, 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 lo faccio per confrontarmi. Cioè un uomo con autostima dice ma perché io… Questa mi schifa perché dice cazzo com'è fredda. No, no, ma è come l'uscita. Io se fossi uomo alla terza volta che mi pacchi non te lo chiedo più. Ma c'è… Ma è… Neanche la prima volta. Eh. Però invece c'è chi tende a… Sì, ma chi è anche… Sì, ma quelli sono uomini di scarso valore. Boh, allora niente, attirerò sempre uomini di scarso valore. No, non ho detto questo. Però, no, nel senso… Ragazzi insistete, no? Scherzo. Ti faccio notare questa roba. Cioè un uomo che è disposto a mettere da parte il proprio orgoglio, la propria dignità per conquistarti, è un uomo che lo può fare… Cioè ci sta questa roba, se hai già un rapporto e sei già la sua donna e lui è il tuo uomo. No, una cosa che mi dicono sempre poi… Cioè io per la coppia, ecco questa roba qua, per la coppia io dico sempre, quando c'ho delle coppie in crisi, dico tu devi giocarti tutte le carte e fare in modo di non avere rimpianti e aver fatto di tutto per cercare di salvare questa relazione. E lì va bene fare, non lo zerbino, però andare oltre l'orgoglio, insistere… Ma sul discorso dell'orgoglio si apre un capitolo enorme, nel senso che secondo me l'orgoglio eccessivo non porta da nessuna parte. Sì, ma neanche la sottomissione. No, no. Ci vuole equilibrio. Dosare, ma anche in una conoscenza, dosare. La classica frase, io sono fatto così… No. Perché la fai andare bene. Sei un coglione se sei fatto così, o coglione. Ho fatto male. Per me non è accettabile. Sei un imbecille. Per me non è accettabile. Cioè se sono fatto così, sono un imbecille, sei comunque un imbecille, parliamone. Cioè la frase, io sono così, o ti va bene o ti va bene. No, ma lì lo dico no, no, lì non è egoismo, non è orgoglio. Eh, capito. No, quella è spossicità. È un egoismo portato all'estremo. Sono fatto così. Allora, il discorso è stare insieme ragazzi, questo è un argomento a cui tengo particolarmente. Perché ovviamente io tendo spesso ad avere relazioni di lungo termine, no? Stare insieme è uno scambio, è un conoscersi, è un scendere a compromessi per certi versi. Ma in qualsiasi rapporto alla fine, se stiamo a guardare, in qualsiasi rapporto sociale uno deve trovare un equilibrio tra le due o più persone. Ma è normale, perché se noi la ragionassimo sempre, io sono fatto così, allora non si potrebbe avere nessuna interazione con l'essere umano che non sia io. Bisogna sempre mettersi in gioco in qualsiasi rapporto. Bisogna un pochino mettersi in gioco, smussarsi e riuscersi anche un pochino a plasmare, a plasmarsi in base alla situazione in cui siamo. Bravissimo. Perché la frase io sono fatto così, è da coglioni, ragazzi chiariamo sto fatto, è da coglioni. Bravo, un applauso. E viceversa, viceversa anche le donne ragazzi, quando dici che sono fatte così, vaffanculo. Cioè ma davvero? Sono fatte così, vaffanculo. Ma lì vuol dire che non c'è interesse nel... Ma sì, ma guarda, invece scusate, mi prendi per come sono. Sono anche interessati, però non hanno voglia di modificare minimamente. Ho l'interesse, ma sappi che io sono fatto così, quindi o ti vado bene o ti vado bene. E non mi vai bene. Quello è anche un... Non sape amare. Prendiamoci una piccola pausa perché ho una cosa importante da dirti. Fammi sapere se questo podcast ti sta piacendo perché in base ai tuoi feedback e a quelli di tutte le altre persone, costruiremo le prossime puntate di questo podcast. Mi raccomando però, ricordati di mettere like, di scrivermi nei commenti che cosa ne pensi e di iscriverti al canale. Buona visione. Allora, il discorso qual è? Il discorso è che ci sono delle cose su cui non si può soprassedere, ok? Se uno... Io ne abbiamo parlato l'altra volta. Io sono una persona tendenzialmente gelosa, molto leale, che pretende tantissima lealtà, ok? L'altra volta abbiamo fatto un casino sul discorso della libertà, eccetera. Perfetto. Però è ovvio, esatto. Se io sto con una ragazza e dico, amore, io ho questo modo di vedere il mondo, tu ne hai un altro, è lì non puoi, non puoi mecciare perché io non cambio su quello. Allora vedi che anche tu sei fatto tu. No, non è vero. Però su tutto il resto, cioè ci sono dei valori guida. Ma ragazzi, comunque... Ma io poi parlo del sono fatto così su delle cavolate. Eh, allora sei un coglione. Cioè non parliamo di discorsi trattonici, parliamo di cavolate. Ecco, l'altra volta dicevamo il discorso del vestiario. Ah, vieni in tuta a cena con me e mi dà fastidio. Ma cazzo, mettiti una camicia. Le basi! Cosa ti costa te metterti una camicia? Ci siamo? Siamo d'accordo su questo? E per quello io vedo anche il compromesso, perché alla fine si tratta di compromesso, perché ogni relazione va compromesso e io quella parte iniziale lì voglio vedere una persona un pochettino, tu dici sottone, ma per me non è sottone. Lo vedo come una persona che è pronta a venire verso di me, che non lo so, si avvicina a me. Ma è giusto questo? Ma un uomo che si avvicina a te, te lo dimostra? Sì, ma non che deve un po' insistere. Lo so che è una brutta parola insistere, non mi piace dire... Perché un uomo che insiste è un uomo che non ha dignità. Rincorrersi. Sul discorso dell'insistere, ok, c'è tantissima confusione. Perché un uomo che insiste, quando trova un muro, è un uomo che non ha autostima, che non ha rispetto per se stesso, che si prostra ai predi di una donna e non ti darà mai quella forza, quell'energia maschile che serve a una donna per interessarsi. Ora poi, la tua esperienza è quella che è e Dio ti benedica, sono felice che siano andate bene le tue relazioni. No, una cosa che mi dicono sempre è, infatti, che non capiscono all'inizio se io voglio qualcosa di più rispetto a una semplice amicizia. Esatto. Non mi scopro, vabbè, però secondo me... Ma non è che ti sto dicendo, tu da domani devi fare quello che ti dico io. No, ma magari vorrei anche io essere più scoperta. Ecco, ti dico questa, ti dico quest'altra prospettiva, ti faccio ragionare su quest'altra prospettiva. Nel momento in cui lui ti dimostra interesse e tu piano, non ti dico che devi esagerare, ma gli dai un... Anch'io no, quello sì. Continui la conversazione, gli fai un complimento non esagerato sul modo che mi fai ridere, mi diverte parlare con te. Questo, cazzarola, dice, ce la sto facendo. E allora, lì investirà sempre di più nella relazione. Perché? Perché lui ha un rilascio oggettivo di dopamina, che è l'ormone della ricompensa, quando tu gli dai il check, quando tu gli metti il like alla storia, quando tu gli iscrivi perché magari ha postato qualcosa di divertente. No, però tu stai già andando oltre, io non ti sto dicendo che queste cose non le faccio, ma stiamo parlando proprio di inizio, inizio, ho detto i segnali di interesse iniziali. Eh, inizia sempre con una conversazione. Questo stai già andando nel gioco del like, nel gioco del messaggio. Eh, beh, inizia così. Cioè, l'interesse inizia così. Tu ti accorgi che un uomo è interessato a te. O no? Sì, ma lui non si deve accorgere che io sono interessato a lui. È quello il problema. Cioè, lui deve avere, quello che io dico sempre ai ragazzi, lei deve avere il dubbio che tu sia interessato. No, io, per me, lui deve avere il dubbio. Esatto, ma però tu non gli dai il dubbio. Io do un muro e quindi loro scappano. Quindi tu gli dai anche speranze. No, vabbè, dai, adesso non esageriamo. Siccome è un uomo lo capisce. Non lo capisce, non siamo come voi. Noi abbiamo due neuroni, uno dei quali è figa, figa, figa. L'altro è nel 90% degli uomini è calcio, calcio, calcio. E negli altri è figa, figa, figa. È grave la situazione. Non è vero. Non è vero. Secondo me ci sono quelli. Chiediamo a chi ci ascolta che cosa ne pensa e ci commentano sotto. Prima scrivono al canale. Esatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando. E poi fateci sapere cosa ne pensate sulla cosa. Ma è così, ti diranno, ti diranno. Io ci ho trovato uomini che hanno buttato giù i muri. Ma hanno buttato giù i muri, però sicuramente hanno insistito troppo. Però secondo me il muro serve. No, dal lato maschile possono essere in due modi. Uno è appunto, come dici tu, mi abbasso, tolgo tutta la parte mascolinità che c'è in me e mi sottometto per. Ma dall'altra può essere anche, cazzo sono uomo, devo arrivare a conquistarla. Esatto. Sì, ma lì deve già vedere che c'è un interesse. Però lì deve vedere un po' una lampadina accesa. Esatto. Se no non ti viene neanche voglio. Esatto, io mi ero un po' le palle. Cioè io sto per, io adoro il corteggiamento. Io lo adoro e lo insegno ai ragazzi. E abbiamo fatto dei corteggiamenti a volte di mesi. Sì, però. Però c'è questo corteggiamento che ha un, è sempre un escalation. Cioè ogni giorno, ogni, io con lui, guarda c'era una ragazza di Torino. Che è inenarrabile da quant'era bella. E vi ricordo che con questo abbiamo scritto tre mesi, perché non riusciamo a beccarci. Abbiamo scritto tre mesi, abbiamo iniziato da un like. E siamo arrivati a scrivere tutti i giorni, tutto il giorno. Poi per mille motivi non sono mai riuscita a incontrarla. E poi mi sono messo con un'altra. Bene. Che storia allegra. No, tristissima. Tristissima perché ho sbagliato. Però potevo, però il discorso qual è? È che è iniziato tutto con dei piccoli, dei piccoli messaggi in risposta alle storie. Poi io scrivevo e lei mi rispondeva, mi faceva magari un'altra domandina. Attenzione, io rispondo a un sacco di persone sui social e questo non vuol dire che sia un interesse anche lì. Sì, ma non è rispondere in modo diplomatico. L'uomo si accorge se tu rispondi per continuare la conversazione e conoscere un po' di lui. E' strana, tipo io magari se uno mi piace mi chiudo di più, magari sono più aperta con amici e quando uno mi piace mi chiudo inizialmente. Quindi è un casino. Eh sì. Ma dobbiamo ricordarci che abbiamo a che fare con degli esseri umani, non con delle macchine. Quindi puoi trovare la ragazza che anche se è interessata lo nasconde senza confondersi con quelle che veramente non sono interessate e non le devi molestare. Ok. Da poi ogni persona è a sé. Ogni persona è a sé, quello dico. Però non è che puoi, sai cosa noto? Che molti uomini non vedono il segnale di interesse e allora vanno via. Ma perché io noto che uomini e donne ragionano proprio in maniera differente su questo. Davvero? Ma dai. Siamo totalmente. Gentleman. Cioè la donna è più riflessiva, è più sottile, l'uomo è più. Greta. Cioè capito? Ma poi bisogna vedere anche donna a donna. Tipo io sono una molto più misteriosa. È assurdo ma non lo faccio apposta. Cioè sono proprio più. Però il problema è che va bene essere misteriose, anzi aumenti l'hype. Ma voi spesso quel mistero non lo sapete cogliere. Non lo sapete gestire. Cioè? Non lo sapete cogliere, giusto? Come? Perché voi la vedete come non vi buttate nel gioco. La donna è più sottile, a volte l'uomo, non parlo di tutti gli uomini, l'uomo di un certo riesce. Ma quella sottigliezza femminile, quelle cose lì piccole, così non le cogliete. E più deve essere una cosa palese. No, vabbè, io parlo un po' di uomini basici. La semplicità. La semplicità. Noi siamo più contorte. Io parlo di uomini un po' più evoluti, ragazze. Noi siamo più contorte. Uomini un po' più evoluti. Sentite, l'uomo evoluto di cui mi stai parlando tu è quello che è il semaforo verde e andiamo avanti. No, così. Noi siamo più semaforo arancione. Ma non è semaforo. Io sono più semaforo arancione. No, io anzi, ti dico di più. Se una donna è subito disponibile, mi annoia. Ah, vedi allora. Però poi non vuoi il muro. Esatto. E allora? Cioè, la fai su misura. No, è facilissimo. No, io so così. La donna deve fare la donna. Quindi, ti dà un po' di spazio, poi tu devi fare il tuo, te ne dà ancora un po', poi tu devi fare il tuo. Cioè, è una danza, come dicevo prima. No, no, io la vedo così. Luci, segna i punti. Esatto. No, ma io così, gli ho appena detto, io sono una. Esatto. Semaforo rosso, poi arancione, poi un po' di verde, poi torna arancione, poi torna verde e poi torna rosso. Io sono così all'inizio. Ma ci sta. Io non ti faccio capire nulla. No, però devi sempre fare... Cioè, lui deve sempre avere il dubbio che tu sia potenzialmente interessata, però lo deve avere il dubbio. Se tu lo schifi dai 0, 0, 0. No, ma adesso avete detto il muro. No, lei intende un gioco di non dare 10, dare il 6. poi il 4, poi magari l'8, poi tornare al 6. Brava. Ma così è manipolazione tossica. Cioè, deve essere invece... Sorry, not sorry. Ti do l'1, tu fai magari 2. Ma poi dipende come... E ti do il 2 anch'io. Dal 2 tu fai il 3. Che noia. Eh, ma non è noia. Ma poi secondo me... Poi mi dà il 3, il 3, il 3, il 3, il 4, il 5, il 6. Ma poi secondo me in ogni frequentazione, in ogni storia che sia, in base alla persona che gli dava avanti. E dai davanti. Ma certo. Perché ad esempio ci sono stati ragazzi dove io comunque il muro ho cercato di toglierlo un po' che vedevo già cose strane. Tipo? Tipo uno davanti a me una volta ha chiesto il numero 1 mentre ero girata. Ma che uomo è uno che fa così? Ragazzi, non fate sta roba. Se fate sta roba, cancellatevi, non iscrivetevi al canale, non guardate i miei video perché vi schifo profondamente. Ma no, ma succede ragazzi. Ma non succede! Non è possibile! Ma non manca nel mio... Quello che si gira io gli ho detto ma cosa stai facendo? No, mi ha chiesto il numero. Sì, ma gliel'hai dato? E mi fa no, vabbè ma perché non sapevo cosa risposta. Ma tu gli avevi dato qualche segnale? Ah sì, eravamo già oltre il segnale. Però eravamo tipo al 3. E allora lì ho detto ok, torniamo allo 0, ciao. No, poi continuata. Ma giusto, lì è giusto. Poi il retrocedere. Raga, io non ho parole. E no, ma perché ragazzi, secondo me, adesso dovremmo parlare anche con tutti i ruoli. Io lo lasciavo lì. Cioè io se una tipa fa una roba così... Allora, un'altra cosa che io lascio lì. La lascio lì. La lascio lì. Ma se è Mauri? Sì, sai cos'è Mauri, che tu prendi la persona che hai scelto e la vuoi conquistare. La maggior parte degli uomini hanno diverse. Va sul bus, su chi è disponibile. Bravo, proprio per questa roba di... Ma quelle non sono uomini. Semaforo verde di qua e di là e quindi fanno... Ah beh, sicuramente, ma noi dobbiamo infatti distinguere... Allora, ecco ragazzi, parliamo di una cosa, esatto, parliamo di una cosa importante. Io parlo sempre con la mia visione della seduzione, che è una visione di seduzione basata sul creare relazioni, non sul trombarti più donne possibile. E questo ragazzi, penso che sia chiaro, se avete visto due o tre miei video, questo è... Si sa, è ovvio che se voi siete quel tipo di uomo che scrive a 50 donne... Cazzo, andate in un altro video, in un altro podcast... Perché tante volte hanno il metodo pescatore, no? Calo la rete, quantità. Chi pio pio è la legge delle probabilità. Ma ho capito. Esatto. Calo la rete, vediamo chi ha bocca e chi tiro su nella barca. Cioè, tante volte l'idea maschile è questa. La donna è già diversa, invece. Ma certo. Perché la donna se... Seleziona. Se scambia un follow su Instagram, se risponde a un messaggio, perché già... Gli è scattata la lampadina di dire... Aspetta un attimo, ma lo valuto. Lo pongo sotto esame. Ci sta. Ma è perché è il tuo lavoro, è il tuo lavoro antropologico. È vero. Però la maggior parte degli uomini, oggettivamente, devo ammettere che è così. Va sul mucchio. Quantitativo. Sì. E forse è per quello che io poi ho messo il muro a un certo punto. E ci sta. Però il discorso è, ecco, da parte vostra che avete delle abilità sociali voi donne, esagerate, no? Cioè, siete riuscite a cogliere le sfumature, delle emozioni, delle situazioni. Ma non vi accorgete che uno è un puttaniere? Non vi accorgete che uno vuole solo la vostra farfallina? Chiedo. Sì, ma c'è anche chi lo maschera bene, comunque. Però tanto esce fuori. Sì, sì. Basta vederlo due volte in più. Hai capito. Perché la butta dopo tre parole, la butta sul sesso. Io vi ricordo di una ex, non so se l'ho già raccontata. Ho visto anche uomini insospettabili. Sì, lo so, questo podcast ti sta piacendo un sacco. Sì, lo so. Ti starai chiedendo come io faccio a sapere tutte queste cose. Tuttavia, quello che ti voglio dire in questo piccolo intermezzo è di prendere la tua copia del Gentleman Seduttore. Questo libro ti aprirà le porte del mondo dei Gentlemind. E oltre al libro avrai un sacco di bonus, videocorsi e un mare di altra roba. Per prendere la tua copia, clicca sul link qui sotto in descrizione. Ora torniamo al podcast. Io, ad esempio, quando conosco una donna, vi sembrerà strano, però, perché io scelgo e punto. Io, quando conosco una donna, il sesso, per quanto sia abbastanza disturbato sotto questo lato... Ho paura, è quello che sta dicendo, ho paura. Per me è secondario. Cioè, nelle prime fasi preferisco creare relazioni. C'è mia guardata. No, 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 no. Preferisco creare relazione. Poi facciamo tutte le zozzerie che vuoi, però... Non ci pensi proprio? No, non è che non ci penso. Dentro sono... È che preferisco, però, cento volte farmi una chiacchierata, emozionarmi, sentire il cuore che batte perché mi guarda. Che romantico. Io sono una roba. Lo sento. Io sono una ragazza. Sì, sì, una ragazza mancata. Lui ha un lato femminile molto molto. Anche lì, no, l'errore, secondo me, vostro, maschile, della maggior parte. No, perché la rega. Stavo parlando di romanticismo. No, 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 no. Non tu come uomo. In generale la tua categoria. Anche il sesso, no? Cioè, se anche una donna è predisposta a far determinate cose con te, è perché un motivo c'è. Cioè, nel senso, ad esempio, tante volte noi donne, potete confermarmelo sicuramente, tendiamo all'inizio a mettere il muro, no? Ovvio. Cioè, prima di arrivare a una certa intimità, vedo come è la situazione, lo porto avanti, vedo come è, ma in realtà, aiuta anche quello. Cioè, il sesso si aiuta. Ma tante volte noi donne siamo bloccate, perché tante volte voi lo vedete come una conquista. Cioè, boh, ci sono taletto. No, no. Il problema è quello. Perché l'uomo, ecco, io infatti faccio questa cosa di bloccare i miei istinti un pochino più birichini. Per vedere se mentalmente... Proprio per far capire, proprio per far capire alla donna innanzitutto che sono lì per lei. E due per creare... Che interesse c'è. Esatto. Per creare prima relazione. Perché poi, ovviamente, ragazze, confermerete, il sesso, quando c'è coinvolgimento mentale, è dieci volte più bello. Certo. Dieci volte più bello. Perché voi siete... Vi lasciate andare. Se state con uno che vuole... Che sapete che vuole solo la farfallina, siete un po' tirate. E il sesso è di scarsa qualità. Sì. Infatti, quando una donna ti desidera, desidera l'uomo, che succede pochissimo... Perché mi guarda l'uomo, è sicuramente così. No, dimmi, dimmi, dimmi. No, no, sto scontando. Mi guarda. Sto scontando. Perché cerca, secondo me, approvazione. No, no, no. Sto scontando. No, però così, se tu ci pensi... Il 90% degli uomini, quando vede una donna, vede un pezzo di carne da infilzare. Vabbè, adesso no. No, no, no. È così, guarda. Io vedo... In certe situazioni... Ah, tromba, figa, figa, figa. Tromba, tromba. Però, raga, triste. È proprio triste. Io quando incontro una donna e mi piace proprio la seduzione, il ballo della seduzione, quel gioco di sguardi, di situazioni, la cena. È ovvio che poi, cioè, quando la vedo mi viene, mi sale l'ormone. Secondo me, io mettendo quel muro lì, tanti così si allontanano subito. Ma si allontanano anche quelli buoni. Ma scusa, ma non puoi invece aprire... Ti faccio un... Io valuto, io devo prima valutare che ho davanti... Eh, che cazzo, quindi però dagli la possibilità di farsi conoscere. Se tu ti apri a chiunque... Ma non è questo... È che devi selezionare, capire che non è un puttaniere, però se tu gli dai solo cose negative, quello che ha un po' di autostima... No, no, io non do cose negative, non do né cose negative né positive, io osservo in quel momento lì, quindi per quello non faccio, non mi ha... Ma tu questo gioco lo fai, io non ho capito, tu questo gioco lo fai, cioè di dare un po' di spazio sulla base del suo impegno. Ah beh, devo valutare l'impegno. No, devo valutare, vedere l'impegno. No, allora non ci siamo capiti. Io vedo un chicco di sale, ragazzi. Vedo che una persona comunque si impegna, ne parlavamo l'altra volta, mi inviti per il caffè, per me non c'è né impegno, non c'è né fantasia, non c'è... nulla e quindi per me è il muro. Beh, forse è peggio, l'invito a cena, sali in macchina, dove andiamo? Ah, non lo so. No, vabbè, ma vedi stai facendo il senso. Siamo sempre al peggio, capito? Però se io salgo in macchina, mi dici hai una bella proposta, facciamo una bella cena, allora io quel momento il muro inizio a tirarlo giù. Ma io non ti posso dire che incontro uno e gli tiro giù il muro, comunque gli do dei segnali, perché io aspetto sempre... Ma un minimo di segnali secondo me vanno dati. Io non riesco a darli a una persona che non so. Ma non è che devi esagerare. Secondo me non è tanto una questione di aprirsi e abbassare il muro, secondo me è una questione che bisogna dare il beneficio del dubbio, cioè dare quel minimo di possibilità, poi man mano inizi a fare le tue valutazioni e nel caso ti distacchi. Ah, tu dici tirarlo su dopo il muro? Ma no, nel senso non creare questa barriera dove l'uomo si sente, ma nel muro cosa faccio? Spare il muro, non so come muovermi. Esatto. Dare quel minimo di 10% di possibilità, poi uno valuta in corso dopo una valuta, ma all'inizio secondo me un pochino di spago bisogna darlo, a mio parere. Esatto. Un uomo che vuole superare quel muro è un uomo che ha solo l'obiettivo di... cioè diventa una sfida e poi una volta che ha ottenuto quello che ha ottenuto scappa. Ora, magari non è il tuo caso, però nelle maggior parte delle situazioni potrebbe essere quello. Quindi quello che voglio dire ai ragazzi, alle ragazze, quando avete una situazione di flirt, la donna deve fare la sua parte, che non vuol dire che deve gestire il gioco, perché la donna deve appunto dare quel poco di spago. Io mi ricordo un video che ho visto bellissimo. E dovete saperlo cogliere però anche. Esatto. Quello una volta diceva, questo video bellissimo diceva, una volta le donne sapevano fare le donne. Guarda la faccia di Lucia. Perché? Cosa facevano? Davano dei microsegnali agli uomini in modo che l'uomo potesse iniziare il corteggiamento. Le abbiamo persi, le abbiamo persi perché voi vi chiudete, porca paletta. E non è solo colpa dell'uomo. Perché una volta, una volta la donna, io vi parlo nell'ottocento, cosa faceva? Ai tempi dei dinosauri. Ai tempi dei dinosauri, ovviamente. Però, che cosa faceva? Passava l'uomo e la donna faceva cadere il fazzoletto. È vero, sì, è vero. Come nei film. Come nei film, ora voi direte, Mauri, però siamo nel 2024, anche meno, non posso far cadere la laico, però l'uomo aveva la scusa per poter iniziare una conversazione. Ma perché ora la donna tende a fare tanto l'uomo? Eccola, brava. Lo so che non è giusto. Come è giusto? Ah, non è giusto. Non è giusto. Ma sono io la prima a dirlo, eh. Attenzione, sono la prima a dire che negli anni si è persa un po' la distinzione dei ruoli. È vero. Perché la donna fa un po' meglio la donna e l'uomo, tanti uomini si adagiano al fatto che non devono più sbattersi per... Esatto, però il problema è che si stanno distanziando troppo. No, è che secondo me la conseguenza, la donna si è mascolinizzata e l'uomo di conseguenza si è un po' più femminato. Sì, l'uomo ha tantissima, ora ha tantissima energia femminile e la donna ha tantissima energia maschile. E' una cosa che hanno detto è riferita a quello che si mangia ora, al cibo, all'alimentazione ma anche alla società... Sì, è un insieme. Secondo me è più un discorso sociale. No, no, è un discorso fisiologico. Ragazzi, mangiatevi il pollo, guarda quanto pollo, la carne... No, ci sono un sacco di alimenti che contengono... No, questo è vero, è scientificamente provato che l'alimentazione ha inciso sull'uomo tantissimo. Ah, che ha fatto perdere il testosterone, è vero? Sì. È vero, è vero, è vero. Però quello che ti voglio dire, a prescindere da questo, il discorso è che se la donna facesse la donna, che cosa vuol dire? Desse quei piccoli segnali... Ma se invece semplicemente fossero cambiati i segnali, ma i segnali ci sono comunque... E quali sono per te i segnali? Secondo me ad oggi viviamo in una società con un codice completamente diverso da quello che poteva essere il fazzoletto lanciato per strada. Ma ovvio, ovvio. Secondo me c'è una nuova... Eh, ma se l'uomo ti scrive e quindi inizia, il tuo fazzoletto è rispondere e dare un po' di spago. Ma poi ragazzi, qua stiamo sempre parlando dell'uomo ti scrive, c'è sempre di un rapporto creato a livello social. Perché la maggior parte ormai è così. Sì, ma noi parliamo anche di rapporti sociali creati... Vis-a-vis. Vis-a-vis. Eh, ma il vis-a-vis dopo il covid, il vis-a-vis ce n'è poco, eh. Ma no, il vis-a-vis c'è ancora. Sì, ce n'è ancora un sacco. Ce n'è sicuramente. Non diamo tutte le colpe al covid, in realtà di vis-a-vis ce n'è ancora. No, nel senso che secondo me viviamo in una società molto chiusa, cioè sì, le persone che puoi incontrare in giro, ma io mi rendo conto che a volte anche al ristorante è difficile conoscere persone o... È vero, è vero. È difficile che l'uomo ti sia vicino. È difficile perché ho notato io e mi è capitato tanti uomini, cosa fanno? Ti vedono, non ti parlano. Ti scrivono. Ti scrivo tutto per trovare il tuo nome, il tuo cognome, la mattina dopo mi sveglio e mi trovo il messaggio su Instagram. E tu dici, ma perché non mi hai parlato? Ragazzi, questa roba è il male. Ma perché non mi hai parlato quando mi avevi davanti? Glielo vogliamo spiegare che questa roba è il male. Spiegaglielo il tuo uomo. Questa roba è il male. Diglielo. E ma loro hanno paura di sentirsi molesti. Ma sai, sì, ma questa roba è terribile. Ti mi alzavo la mattina, era buona la cena e io poi inizio a far mente locale dicendo ma non ho messo storie. Buona la cena è dove? Se vuoi fare questa... Ero sotto a fianco a te. Ah sì? E perché non ti mi hai fermato? Perché molti hanno paura di essere invadenti. Sì, ma questa roba, ragazzi, vi fa risultare degli sfigati terribili. Sì, piuttosto non mi scrivere dopo. Esatto, la donna cosa dice? La donna dice, questo non aveva le palle di parlarmi nel momento e ha usato il social come scudo. Fermati cowboy, è una cosa importantissima da dirti. Mi raccomando, metti like se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e commenta. Fammi sapere se questo podcast ti sta piacendo, fammi sapere la tua esperienza rispetto a quello che stiamo raccontando, quello di cui stiamo parlando, tutto quello che ti va di dirci. Quindi mi raccomando. Avete sentito la storia di Michele Morrone quando ha incontrato la sua... No. Lui era a Roma seduto in un bar e vede, seduta dietro di lui, questa ragazza con un sorriso bellissimo. Non aveva soldi, perché aveva la carta, sai che si paga tutto con la carta. E ha dato una sigaretta al tipo delle rose, per comprare delle rose, poi si è alzato e gli ha portato le rose. Vabbè, Michele Morrone è primo, però... Michele Morrone è facile per Michele Morrone. Anche se ti porta un carciofo. Sì. No, però lui ha raccontato. C'è da dire che ovviamente uno che è figo è avvantaggiato. Ora, sotto, scusate, è importante un disclaimer, non mi dite, oh ma perché sei belli, sei bello, sei ricco. All'inizio posso capire che l'aspetto conti, ma se un ragazzo normale però ha uno sguardo di un certo tipo... Certo, ma all'inizio il primo esempio social, il primo imprinting è quello, poi da lì... Però non serve la bellezza oggettiva, non facciamo passare questo... Puoi anche essere bello, ma fare tipo, essere fascinoso. Ecco, me lo spieghi meglio questa roba, perché è importante che arrivi. Perché altrimenti dicono, eh, Michele Morrone è un super figo. No, però Michele Morrone in quel momento senza un euro... Non aspetta un altro che gli dici queste cose per lì. No, no, però lui senza un euro è riuscito a trovare una roba carina, si è messo a barattare con Rosario per avere... Anche Kevin, come si chiama Henry Cavill, come si chiama, quello che fa Superman, che è un figo da una mandata, e dice, beh, per avere successo con le donne basta provarci. No, ma poi anche sull'essere, il concetto di bellezza, no? Ecco, questa cosa spieghiamo, perché... Quando mi dicono... Scusa, ti fermo un secondo per spiegare. Perché il problema qual è? È che i ragazzi ora sentono Michele Morrone, Henry Cavill, questa roba, insorgeranno e cominceranno a fare... No, no. ...casino, diciamo, vedi, non serve a niente la seduzione. Mi spiegate... Ma poi quando mi dicono, è bello, ma è bello per chi? Per chi? Brava. Io mi confronto sempre con lei, no? Io le abbiamo gusti che sono l'opposto. Ok. Quello che piace a lei. Ce ne sono alcuni che capita di dire, sono oggettivamente belli, magari su Instagram capita di vedere, beh, è bello, appunto, è bello. Ma in realtà poi, tanto fa a gusto personale a cosa ti trasmettono. Certo. Può essere anche una questione di fascino e far tipo, no? Nel senso, io vedo anche, ma anche donne. Ci sono donne che non sono belle. Però le vedi per la strada e dici, cazzo mi è rimasta impressa, no? Perché dico, non è bella, però ha quello stile, quella mano, quell'occhio, che alla fine tutto l'insieme crea fascino, la rende fascinosa. E magari possono essere alto un metro e sessanta, con il capello messo male, ma l'occhiare da sole, ma comunque ti rimane in testa. E l'uomo per me è lo stesso. Non deve essere per forza Michele Morrone. Ma può essere anche, magari a me è capitato di uscire con ragazzi, con magari il nasone, che all'inizio dici, mio Dio. Però magari lo sguardo, l'atteggiamento, il sorriso. Ma nel complesso, lo sguardo, il capello, tutto l'insieme, il voto era 11. Il voto era 11. Perché il difettuccio passava in secondo piano. Cioè, immaginatevi, ecco, vi faccio questa domanda. Michele Morrone, senza quello sguardo, quell'atteggiamento, solo bello? No, non sarebbe esatto. Infatti Michele Morrone, al di là della bellezza, ha un vibe che... È capito? Ma poi c'è anche la concezione della scala di bellezza. Ma per chi? Cioè, per chi una persona è bella o è brutta? Non esiste questa cosa. E però guarda che gli uomini, non so se ogni tanto leggo i commenti sui social, e magari se una ragazza è piatta, se una ragazza... E loro ancora hanno questa idea... Ad esempio con me ho visto... Che la ragazza è bella, se ha il seno... Ad esempio con me, se sono un pochino... Guarda che se tu parli... Diversa dal... Io ad esempio sono un pochino diversa esteticamente da quello che è la classica estetica femminile a meca, di trovare ragazzi che comunque magari amavano il cappello corto sulla donna, cosa già particolare, perché non è una cosa a tutti. Esatto. Adesso ancora ancora, quando lo portavo corto, 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 rasato... Ci sono quelli a cui piacciono le bionde, quelli a cui piacciono le nere, quelli a cui piacciono... Beh ragazzi, perché io a volte, infatti rido, perché io e i miei canoni come tutti, e a volte ci sono dei ragazzi che mi dicono, ma ho rincontrato una figa della Madonna, la guardo e dico, io sta qua non le parlerei manco, no? Ebbè, ma ovvio, ma ovvio. Esatto, esatto, esatto. Però questa cosa dell'energia ce l'abbiamo soprattutto noi donne. Sì, esatto. Noi gli uomini guardiamo... Gli uomini guardano un po' più... Tanti uomini ad esempio noto vanno molto a schemi, no? Cioè, mi piacciono le bionde, se mi parla un'amora non la cago. Sì, vabbè, questi sono... E no, è quello che dico, che abbiamo noi... Io ad esempio ho il mio prototipo, cioè il mio prototipo è biondo, occhiazzurri. Ok, però il bit... Più chiaro è di pelle è meglio. Leonardo Di Caprio. Ok, però... E tu c'hai l'età giusta per Leonardo Di Caprio, tra l'altro. Però noi donne invece non andiamo così a schemi. Noi, ma gli uomini hanno ancora una roba... Ma non è ancora, non è ancora, ve lo spiego. Se capita... Ve lo spiego, perché questa è la cosa che ripeto in ogni mio corso, in ogni mio video, in tutte le cose che faccio, è proprio questa. Le donne non guardano principalmente l'aspetto fisico, infatti tu hai detto una roba che mi ha fatto emozionare, hai detto dipende se fa tipo... Certo. Se quest'uomo ha qualcosa, lo sguardo, gli occhi, il sorriso, quel cazzo che ha il capello... Cioè l'uomo per assurdo è più invece... L'uomo invece... L'uomo deve vedere questa cosa qua tendenzialmente. Perché? Perché? Perché l'uomo deve scegliere la donna, te lo ricordi? In salute, per riprodursi, la salute in antropologia è data dalla bellezza. La bellezza secondo i canoni estetici di riproduzione. Perché le donne si rifanno le labbra, i seni eccetera? Perché danno un'immagine... Distorta. No, sì, quello che è però fondamentalmente è perché riproducono la capacità riproduttiva. Che in quel momento lì la società ha quel canone lì. No, non è in quel momento, in generale... Cambia sempre il canone di bellezza. Sì, però in generale la donna si rifà... Per corrispondere... Per corrispondere alla capacità riproduttiva. Certo. Ok, perché altrimenti si farebbero altre cose rispetto ai sedi, alle labbra, ai fianchi. Perché si fa l'olalipo? Perché il fianco fa sembrare che è più... Ci sono proporzioni. Noi uomini andiamo a proporzione. Vediamo una donna, guardiamo le proporzioni... Però a parte che trovo un po' triste questa cosa... Ma è la natura. Che poi l'uomo deve però capire che nel gioco della seduzione la donna non è attratta da quell'idea. Esatto. Infatti arriviamo a un punto... Bravissimi. Ti lovo, ti lovo. L'ha colto. Lui ci l'ha colto. Hai visto? No, ti spiego questa cosa. Cioè l'uomo guarda... Infatti guarda l'aspetto e pensa che la donna faccia altrettanto. Esatto. Ecco perché su cazzo... Guarda, io li adoro. Questi qua squartati, pezzo ralati. Esatto, ti scrivono due messaggi e pensano di averti conquistata solo perché... Perché hanno la domina... L'altro giorno mi ha scritto uno. Un bellissimo ragazzo, veramente carino. Ora posso anche dire il nome, ma non me lo ricordo. No, non dirlo. Veramente un bel ragazzo. Ah, ma ci potremmo conoscere. Ha fatto tutto il suo show. Ma non ha attaccato, perché sei bello. Non basta. Non basta, tu mi devi tirare fuori l'argomento. Perché magari su Instagram è due messaggi, ok, esco per prendere un caffè con te dopo dieci minuti. Ti annoi. Scrivo alle mie amiche ragazze, diventemi a prendere perché voglio scoprire. Però lui, dato che è molto bello, e tra l'altro fa anche un bel lavoro a lui. A parte il fatto che se una donna esce con un uomo è perché sa già vita, morte, miracoli, Angele, codice fiscale, fatturato annuo e tutto il resto. Cioè, è così in realtà, io sono la prima. Ovvio, ovvio. Però, ecco, aspetta, una cosa. Facciamo un disclaimer, perché hai detto fatturato annuo. Un'altra volta è scoppiato un macello sotto il podcast. Ma non riscoppierà anche questa volta. Ovviamente, io non ho mai guardato, però ho amiche che guardano, è il fatturato dell'azienda. Ma per l'idea, come diceva, da vedere le 24, poi in realtà nel senso, cioè io intendo che una donna quando esce con uno è perché già ha una base. Cioè, sa già un pochino dove va a mirare. Lo stalking. Non va, non va, uh sì. Una donna non va alla cieca a una cena. No. Cioè, bene o male, sa, o lo sa da sola, o si fa appoggiare dalle amiche stalker quelle giuste. Perché quasi sempre c'è un lavoro di squadra. Un lavoro dietro. C'è un lavoro di squadra. Che bella. C'è un team, un team di ricercatori. Il capo di LinkedIn e cose, Google, con ricerche. C'è Mr. Y che sta prendendo tanti di quegli appunti. Sta scrivendo sette libri. Però nel senso, l'uomo a volte va alla città, c'ha un bel culo, me la porta a cena fuori. La donna, qui anche essere bello, però già deve sapere bene o male cosa trova. Non va quasi mai alla cieca. La donna è più esigente. No, la cieca vai con Michele Morrone e basta. Esatto. Non parla con Michele Morrone. Un'altra cosa importante. Allora, ragazzi, l'aspetto fisico importa. Sì, per me importa. Tantissimo. Però aspetta. Ci deve essere. Però deve essere tipo, se tu vuoi creare una relazione. Se tu vuoi andare a farti una serata e fare un... Perché non tutte le donne sperano la sua relazione di una vita. Alcune vogliono semplicemente soddisfare la loro farfallina. Ergo, che cosa succede? Ecco, per soddisfare soltanto la farfallina neanche la donna si informa di chi ha davanti. Esatto. Perché cosa guarda? Guarda l'addominale. Quegli uomini che hanno l'addominalata... Ma io neanche ci esco a cena. Cioè, se il mio obiettivo... Perché dico, vabbè, senti, sai che c'è? Sono single, è figo, voglio fare una serata diversa. Ma io neanche mi informo. Tu non lo fai? No, io non. Esatto. Non vai, vedi. No, sta parlando di amiche. No, sta scherzando. Sto parlando di questa persona. Sto scherzando, vero? È il suo alter ego. Il mio alter ego. È il mio alter ego. Cioè, se capita... Mi cade un mito. Se capita... Vabbè. Nel senso, neanche mi informo di chi ho davanti, vado. Ma neanche una cena è già impegnativa. Vado a bermi qualcosa al volo. Però io anche lì devo avere lì. Mauri... Se invece c'è in mente una conoscenza... Io anche lì devo avere lì input. Se capita un bacio al primo appuntamento è già tanto. Io la devo avere anche lì input. Perché... Vabbè, è un'età diversa sicuramente. Però se non ho l'input non riesco neanche a... Quindi devi essere bello, sì, ma mi devi trasmettere qualcosa. E quel trasmettere qualcosa può essere. Che è una conversazione che può essere qualcosa. Però non basta la bellezza. Perché io lavoro con un sacco di ragazzi bellissimi. Però non ti trasmettono nulla. E poi quando c'è quello che ti trasmette dici... Wow. Perché rimani proprio... E la conversazione. E non è solo un discorso estetico. Deve essere proprio un discorso normale. Poi a volte è anche una roba di chimica. Che non c'entra nulla con quello che lui vuole trasmettere a te. Con quello che recepisce. È proprio una cosa di pelle. Quegli uomini... Cioè a volte... A me è capitato... Perfetto. Scusa. Non lo facciamo parlare. A me è capitato con uomini dove neanche... Cioè tu stavi... Lo vedi a fianco. Stavi zitto ma già avevi quella connessione. Stanno zitti. E lì è la chemistry. Non dicendo nulla. Esatto, esatto. E lì è la chimica. Raramente. Raramente. Ma capita. Tipo Giulia quando ha incontrato il suo fidanzato. Però quello che ti voglio dire è che se tu vuoi creare una relazione deve essere tipo... Se tu vuoi farti una serata un po' berichina... No, ma a parte che la sera... L'aspetto fisico è quello che conta. Infatti ragazzi, il problema è che voi uomini... Io vi voglio bene come se foste normali. Vi confondete. Perché pensate che quello con l'addominalata, tutto palestrato, bello, figo... Che ha tante relazioni... Cioè tromba tanto. Non è che tromba perché ha capacità. È che semplicemente trova donne che lo usano come un pezzo di carne. Poi lo mollano. Infatti quelli lì non hanno relazioni a lungo termine. No, è un divertimento passeggero. Magari neanche le vogliono. Neanche le vogliono. È un divertimento passeggero di tre sere. Esatto. Prea di tanto. Esatto. Tre sere ti fai... La donna lo usa come un cagnolino e poi fine. Next. Se vuoi... Next. Se vuoi una relazione... Cioè quindi se tu sei un uomo che vuole una relazione... L'aspetto fisico... Ragazzi, ovvio, non dovete essere dei bidoni dell'umido. Dovete fare schifo alla vita perché è normale che... Se vi vede fate schifo alla vita, è un problema. Però se siete... Ma l'amore è cieco. Non è cieco. Ma volte anche l'abbigliamento. È l'abbigliamento, l'atteggiamento. Fa tantissimo. Guardate, D'Alessandro che dice... Fa tantissimo. Il capello. C'è incredibile come... Il capello, cioè dicevo... Più di noi donne. Perché ridero? Ma lui aveva i capelli mossi. Poi si sono mossi un po' troppo. Un po' troppo, sono caduti. Sono caduti tutti. Però oggi ne ho portati meno. Comunque... Ma anche il capello. Anche... Il capello. No, 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 certo. C'è nel senso... Poi ogni ragazza... La cura nel particolare. È la cura del dettaglio. Esatto. Mi sono d'accordo. Cioè se porti la barba... La barba deve essere portata bella. Poi c'è chi piace la barba. Ad esempio la barba deve essere portata bella. Il pizzetto deve essere perfetto così. Tipo c'è... La mia amica impazzisce per quelli con i capelli lunghi. A me non piacciono. Mamma mia. Ah, te sei in genere... Mamma mia. Lei vuole un... Ah, lei vuole canna, ma... Come si chiama? Mamma mia. Guarda, guarda, guarda. Ma è castano. Ah, lei deve portare... Però a me è quel cappello lungo così. È castano. Ah, castano. Ho detto castano non è proprio... Guarda, lo prendo anche castano. Io non lo prenderei. A me non piano. È proprio il mio genere. No, neanche me. Sai chi? Chi? Il marito della Leotta. Ecco. Mamma mia. Che è l'ex canna? Cioè io l'odio... Io l'odio per me. Quello è il mio genere. No, no. L'odio perché vorrei essere al suo posto. Però vabbè. No, io vorrei... A me sai cosa piace molto? La bellezza pulita, no? A me è già barba, capello lungo, no? A me piace il capello corto. Baby face. Baby face. No, no. Un po' di rughette, un po' di zappe di gallina che sono un po' di vecchio bello. Anzi. Sono un po' di vecchio. Io sono me cara. Un po' di stagionatura. Vedi che questo però fa vedere che tra di noi già abbiamo tre tipologie di uomini completamente diversi. E proprio questo il discorso ragazzi è che la donna, ripeto, perché chiudo, la donna non guarda, cioè per una relazione ha bisogno di fattori estetici ovviamente perché deve essere attratta, ma devono essere fattori estetici che non sono propriamente dati oggettivi di bellezza. Deve essere tutto l'insieme. Esatto. Emozioni. Se uno invece si vuole fare la serata e guarda l'addominalata, il capello lungo, come il biondo. Sì, vabbè, però parliamo comunque di 25, 26 anni, poi si va oltre. Ci sono anche donne. Vabbè, a me ha quarantenne che è ancora lì. Ci sono anche quarantenni che vanno con i ragazzetti tutti palestrati e la danno via come se non fosse loro, cioè. Ognuno è libero di fare, no, ognuno è libero di fare quello che vuole, però qua penso che stiamo parlando per un pubblico in cerca di una cosa diversa, di uno standard diverso. Quindi vogliamo dire questa roba. Sì, quando avete 18 anni e volete andare a Barcellona, Ibiza e tuttora siamo da... E la volete buttare in un impertugio. Penso che se siano arrivati qui sia per cercare qualcosa che vada oltre, no? Top. Top. Mauri, vogliamo sapere anche dai nostri ascoltatori che cosa ne pensano. Certo, certo. E soprattutto dagli haters, perché l'altra volta... Che amiamo tanto. Amiamo tantissimo. Sì, hanno detto che io non capisco niente. Che tu non capisci niente. Di me cosa hanno detto? Ah, è una cosa possibile. Che siete degli esempi cattivi. Invece sono ragazze fantastiche. Tra l'altro sono bionda finta, non volevo dirvelo. Anch'io sono biondo. Quindi, no. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo podcast. Ciao. Ciao.